ben ritrovati di nuovo su review in you oggi vado a recensire insieme a voi questo bruciatore di incenso che ho acquistato su amazon ad un prezzo davvero competitivo abbiamo un prodotto che arriva all'interno di questi imballaggi di cartone quindi tutto protetto a sua volta all'interno di un altro cartone come vedete ci sono dieci incensi coni d'incenso da posizionare qui sopra che faranno scendere con un effetto diciamo a cascata il fumo al di sotto questo modello è col fiore di lotto l'azienda però ne ha anche altri di modelli vi lascio quindi il link in descrizione così potete acquistare quello che vedete ma anche eventualmente scegliere un altro modello e c'è questo fiore di lotto mobile e che presenta all'interno un buco da mettere poi il bastoncino di incenso come vedete c'è una mano in preghiera meditazione qualcosa che può secondo me piacere come regalo a chi magari anche è un appassionato di diciamo decorazione un po zen o chi fa meditazione o chi si vuole rilassare ve lo faccio vedere per bene veramente fatto bene come materiale un materiale pesante in ceramica notate i dettagli adesso non andrò ad accendere il cono per un motivo che lo devo regalare però veramente un bel prodotto arriva all'interno anche di questa scatola ben fatta quindi vi consiglio secondo me l'acquisto e link in descrizione del prodotto se avete domande non esitate a pormele